Quando vediamo questi spettacoli, no? Composti da queste bravissime ragazze sportive che comunque fanno dei numeri eccezionali, non ci soffermiamo mai a quel che può succedere dietro le quinte, no? E infatti non potevamo mai immaginare che proprio una delle tante ginnaste, tra le più promettenti degli ultimi anni, avesse subito ciò che ha raccontato al quotidiano La Repubblica, che ha fatto notizia che io vi racconterò. Ha detto, voglio proteggere le bambine più piccole, perché tutti devono sapere la verità dei fatti. Ha affermato così Nina Corradini nello spiegare il motivo della sua intervista, rilasciata per far conoscere al mondo, ma soprattutto alle nuove leve della ginnastica ritmica, ciò che ha passato, ciò che però non deve succedere a tutti e quindi onde evitare che qualcun'altra, come lei racconta, subisca lo stesso trattamento e rischi di cadere in disturbi alimentari importanti, ebbene, è meglio sapere prima le cose. Quindi, cosa ha raccontato Nina? Dalle sue parole sembra che i problemi siano iniziati qualche mese dopo il suo arrivo a Cesano Moderno, che è in provincia di Milano, dove le farfalle della Nazionale si allenano per ben sette ore al giorno, anche otto, quindi un turno di lavoro praticamente, a cui si aggiungono diverse ore di studio da privatiste. E ha detto, per le allenatrici ero soltanto una pedina, non c'era un rapporto umano. Non mi hanno mai chiesto come stessi, venivamo pesate ogni giorno, in mutande, davanti a tutti, sempre dalla stessa allenatrice. Cercavo di mettermi in ultima fila, perché non volevo essere presa in giro davanti alla squadra. L'allenatrice mi diceva sempre, vergognati, mangia di meno. Come fai a vederti allo specchio? Ma davvero riesci a guardarti? È stata veramente una sofferenza. Nina quindi è arrivata anche a prendere dei lassativi, pur di perdere peso, e non ancora oggi non capisce quali fossero gli standard richiesti, dato che lei pesava 55 chili per un metro e 75 d'altezza, quindi già era abbastanza uno scricciolo. Non so se la federazione si ha conoscenza di questo metodo, magari dei controlli sì, ma del trattamento e delle umiliazioni non credo proprio. Mi pesavo 15 volte al giorno, il lassativo mi disidratava e non mangiando non avevo più forze, quindi di conseguenza mi ammalavo, avevo poco ferro nel mio corpo, e una volta sono svenuta a colazione. Ma le allenatrici mi hanno detto di andare lo stesso in palestra, pensavano fosse soltanto una piccola scusa e che io la utilizzassi soltanto per bypassare gli allenamenti. Ancora oggi faccio fatica a mangiare davanti ad altre persone. Perché effettivamente, signori, certe cose quando rimangono indelebili nella vita te le porti appresso. È così. Classe 2003, Nina Corradini ha iniziato ad avvicinarsi alla disciplina della ginnastica ritmica a soltanto otto anni, quando si è iscritta alla ginnastica Flaminio di Roma, con la quale poi ha partecipato dalla Serie A. In seguito si è trasferita alla Eurogimmica, Cascella e infine alla Faber-Ginnastica Fabriano. Secondo alle nazionali categoria del 2016, nel 2017 viene convocata dalla squadra junior italiana e arriva finalmente a conquistare al Grand Prix di Kiev la medaglia d'oro alle 10 clavette. Nel 2018 passa poi alla società Eurogimmica Cascella e miete altri successi a altri e tanti altri, diventando campionessa nazionale. E infine, perché non è finita nel 2019, passa alla Faber-Ginnastica Fabriano per poi entrare alla nazionale senior, regalando grandissime soddisfazioni. Un ritorno di fiamma, possiamo definirlo questo. Nel 2021, a 18 anni e senza dolore, lascia lo sport che è tanto amato, e qui invece ci soffermiamo un attimino. Ha detto, me lo ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via. Durante il mio periodo in squadra non ho mai parlato dei problemi con i miei genitori, neanche con le compagne. Le competizioni erano molto alte ed era più forte dell'amicizia. Inoltre, credevo che loro stessero bene. Mi sentivo quasi in colpa a stare male. Invece, signori, dopo un anno pensate di psicoterapia, la Corradini ora sta bene, sta meglio, ed è una studentessa di scienze della comunicazione. Alla fine ai genitori ha detto tutto, tutto quel che ha potuto dire l'ha detto. Mamma si è messa a piangere in un ristorante, papà invece si è arrabbiato tanto con le allenatrici, anche perché ero minorenne. E infatti, signori, non ci dimentichiamo anche questo particolare. Comunque, questo possiamo considerarlo anche come un lieto fine e ha totalmente voltato pagina, quindi per lei comincia proprio un nuovo, come se fosse un nuovo libro, però definiamolo un nuovo capitolo. Questo è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video, soprattutto se siete giunti fin qui. Se volete lasciate un like di supporto e noi ci sentiremo alla prossima.